Buonasera e bentornati a TGTG Estate, il nostro approfondimento legato all'attualità. Buonasera al nostro ospite di oggi, il segretario generale della CGL, Maurizio Landini, benvenuto. Grazie, buonasera a voi. Andiamo subito a vedere come titolano i principali telegiornali di questa sera e poi dopo. Torniamo qui che cominciamo insieme. C-Watch, la nave davanti a Lampedusa, alt della Guardia di Finanza, l'ONG, Naufraghi all'Ostremo, l'Olanda, non siamo obbligati a prenderli. Ci sono le basi per evitare la procedura di infrazione. Dal G20 di Osaka, il Premier Conte si dice fiducioso e apre anche sulla questione autonomie. Il decreto crescita passa con la fiducia in Senato e diventa legge, ma la maggioranza resta divisa e i numeri sono sempre più ristretti. Dal Senato si definitivo al decreto crescita, mentre Conte è arrivato a Osaka, dove domani si riunisce il G20, il Premier ottimista sulla possibilità di evitare la procedura di infrazione europea, ed è lo stesso avviso al Ministro dell'Economia Tria, entrambi avranno colloqui con i leader europei. A Osaka c'è anche Angela Merkel, colta oggi da un nuovo prolungato tremore durante una manifestazione pubblica. Lei ha rassicurato tutti, ora sto bene. Segretario, l'abbiamo appena visto dai titoli, l'approvazione del decreto crescita. Secondo lei, questo decreto servirà veramente a far crescere il Paese? No, per far crescere il Paese c'è bisogno di fare scelte che finora non sono state fatte. C'è bisogno di fare un piano straordinario di investimenti, vero, per le infrastrutture sia materiali che sociali, per la manutenzione del territorio, per una politica industriale vera. C'è bisogno di una lotta all'evasione fiscale vera, una riduzione del peso fiscale sui lavoratori dipendenti e sui pensionati. E soprattutto bisogna creare lavoro che non sia precario e un lavoro che permetta alle persone di vivere dignitosamente. C'è tanto da cambiare e queste scelte ad oggi non sono ancora state fatte. È stato chiamato tra l'altro decreto omnibus perché c'è un po' di tutto dentro. Se lei dovesse fare un esempio di due cose che vistosamente mancano in questo decreto crescita. Io credo che le cose che dicevo prima mancano, manca proprio un'idea che i problemi non si risolvono dalla sera alla mattina. Manca proprio un'idea di visione, qui dà l'idea di una cosa raffazzonata per dire che fai delle cose pensando domani mattina. Noi abbiamo bisogno di ricostruire una visione che ridia fiducia anche al Paese. E quindi devi dare l'idea che tu stai pensando non a cosa fai domattina ma a che Paese vuoi costruire per quelli che vengono anche dopo di te. Questo è quello che manca. Non a caso siamo un Paese che ha il debito pubblico più alto di tutti e che ha la ricchezza patrimoniale che è quattro volte e mezzo il debito pubblico. Oppure abbiamo un sacco di soldi sui conti correnti perché la gente addirittura ha paura, sono calati i consumi, non sa guardare al futuro. Queste sono contraddizioni enormi in un Paese dove la diseguaglianza è aumentata senza precedenti e oggi il vero punto è che si può essere poveri lavorando. Questo è il dramma vero ed è quello che è in genera paura, preoccupazione, insicurezza, rabbia sociale perché poi queste diseguaglianze le vedi. E questo credo che sia ciò che manca dentro a questo decreto e allo spirito. Quindi noi stiamo chiedendo, quando dico noi, non solo il sindacato unitariamente. Sono mesi che siamo nelle piazze, siamo nel Paese perché chiediamo un cambiamento vero, una discussione davvero che affronti tutte le questioni, dall'istruzione alla scuola, alle politiche industriali, agli investimenti e soprattutto alla lotta alle diseguaglianze. Questo è il punto di fondo da cui ripartire. Andiamo ancora in profondità, continuiamo a vedere i titoli. Scosse elettriche e false relazioni per allontanare bambini dalle famiglie. Darli in affido, 18 arresti in provincia di Reggio Emilia, tra loro il sindaco di Bibiano, PD, medici e assistenti sociali. Siamo allo stremo, trovino una soluzione, continua il calvaglio degli esodati, presidio davanti al Ministero del Lavoro. Siamo in 6 mila, denunciano da 10 anni, aspettiamo di poter andare in pensione e a Taranto scoppia la grana IVA. L'azienda senza l'immunità penale chiuderemo il 6 settembre, a rischio 11 mila posti. Prima di tornare dal segretario vi ricordo che voi potete intervenire in diretta in questo studio, fare voi le domande al segretario della CGL Maurizio Landini. Vi ricordo lo potete fare su Twitter, Facebook, ma io vi ricordo sempre il nostro numero a cui inviare Whatsapp e Whatsapp audio. È il 335 69 33 132, affrettatevi così poi li ascoltiamo insieme. E invece segretario, lo sentivamo proprio nell'ultimo titolo andato in onda adesso, è tornata fuori prepotentemente il caso Ilva Ancelor Mittal. Lo ricordiamo ai telespettatori, c'è questo braccio di ferro molto forte tra il governo e l'azienda. L'azienda è disposta a restare, ma solo a patto, che vengano concessi delle deroghe a questo scudo ambientale. Invece il governo dice che non ci pensiamo neanche. Chi ha ragione? Il governo o Arcelor Mittal? Secondo me è il momento della responsabilità. Bisogna ricordare che questo scudo, così come si chiama immunità, è quello che dal 2015 era stato fatto per i commissari. E quindi ha una logica da un certo punto di vista, perché siccome, come noto a Taranto, chi c'era e chi ha gestito ha fatto dei disastri, naturalmente sia per i commissari e poi per chi aveva comprato l'Ilva, il ragionamento era non possiamo essere noi responsabili di ciò che non abbiamo fatto. Noi saremo responsabili di tutto quello che succede di qui in avanti. Allora, siccome il governo ha cancellato questa immunità, che è quella che ha permesso di gestire in questi tre o quattro anni l'azienda, prima che venisse venduta Mittal, io credo che il problema sia fare un decreto in cui nessuno vuole che la Mittal non sia responsabile, ma credo che la logica sarebbe quella che deve essere responsabile nel momento che fa gli investimenti. Siccome in quattro anni sono previsti investimenti, bisognerebbe che ogni anno, in funzione degli investimenti che vengono fatti, dal momento che li fai, allora diventi responsabile di quello che avviene. Credo che sia una cosa di buon senso. Dall'altra parte, dico che l'azienda non può fare minazze o ricatti. Queste cose che io sto dicendo erano dentro all'accordo che è stato fatto. Lo sapeva il governo come lo sapeva l'impresa. Non a caso si è detto, facciamo, e l'impegno è di fare quasi quattro miliardi di investimenti nel giro di quattro o cinque anni per mettere a norma quegli impianti, per utilizzare le migliori tecnologie e finalmente per avere un'acciaieria che non produce più danni né alla salute, a chi ci lavora, né all'ambiente. Io credo che nel momento della responsabilità sia fare questa parte. Il governo non deve fare campagna elettorale, deve fare le cose che del resto si era impegnato a fare. Va rifatta una nuova legge, la si faccia con queste caratteristiche. Noi e l'azienda la smetta di fare minacce. È il momento di lavorare responsabilmente per realizzare quello che negli accordi è stato fatto. C'è un incontro fissato la prossima settimana che è da mesi che noi chiedevamo e credo che quel tavolo, con anche le parti sociali, deve trovare una soluzione. Noi non saremo mai d'accordo che si faccia saltare l'industria siderurgica nel nostro paese perché vorrebbe dire un arretramento del sistema industriale. Allo stesso tempo noi ci siamo battuti da anni perché noi vogliamo che produrre acciaio non faccia più morire nessuno. Ciò è possibile se si fanno gli investimenti e se si fanno applicare le leggi ma con una logica che oggi vedo venire meno. Spero che sia il caldo che ha portato qualche scompenso ai soggetti. Spero che con un po' di aria condizionata sia il governo che le imprese ritornino ad avere un minimo di saggezza e il ruolo che noi vogliamo giocare con i lavoratori e con il sindacato è di fare le cose per bene nel rispetto dei diritti di tutti. Che si trovi una soluzione. Però c'è un'altra questione, segretario, che chiaramente non nei titoli di questa sera ma è stato un giugno bollente dal punto di vista dell'emergenza lavorativa. Chiedo alla regia di farci vedere la grafica. ci sono 150, forse anche più, vertenze al Ministero dello Sviluppo Economico, 280 mila i posti in bilico, lo vede anche qua dietro nel video, 180 tavoli di crisi aperte, 20 aree di crisi. Insomma, è un periodo molto duro ed è verissimo che ogni tavolo, lo sappiamo bene, in questi anni ci avete istruito bene, ha una storia a sé. E questo è vero. Ma secondo lei, qual è il problema che sta alla base di questa emergenza lavorativa e cosa dovrebbe fare il governo, non dico per limitarle, insomma, per risolverle, è difficile, ma quantomeno per limitarle. La base della situazione in Italia è che da noi si sta tornando indietro. Cioè, la crescita, non solo non c'è la crescita, stiamo tornando indietro, gli investimenti sono calati, la domanda è calata. Quindi c'è anche un problema, insisto, di politiche industriali, di investimenti in senso generale che non vengono realizzati. E servirebbe anche qui una logica che coordini questo impianto. Io le cito solo alcuni elementi. Lei tra le crisi diamo dei nomi. Mercatone 1. Assolutamente. Infatti chiamo anche la mappa che abbiamo fatto per lei. Dietro ci sono anche delle persone. Mercatone 1 erano mesi che si stava discutendo per chiedere oggi questi lavoratori hanno bisogno di essere sostenuti perché con gli ammortizzatori sociali non sono in grado di reggere e c'è bisogno di riportarli alle 40 ore settimanali su cui calcolare gli ammortizzatori sociali e non i part time come sta avvenendo adesso e c'è bisogno che il governo intervenga per evitare lo spezzatine per dare un futuro a questa prospettiva. Se penso a un'altra vicenda stiamo parlando di Wilpus stiamo parlando di una grande multinazionale. Ci sono degli accordi vanno rispettati hanno avuto anche soldi pubblici ma allora c'è bisogno di avere un'idea generale di politica industriale che viene realizzata. Si potrebbe parlare di quello che sta succedendo nel settore dell'auto di tutta la mobilità quindi quello che noi denunciamo è che vengono lasciate le singole crisi fuori da un disegno più generale di rilancio di questo paese. Parliamo della cultura parliamo del turismo ma parliamo della mobilità in senso generale parliamo delle opere che debbono essere rilanciate. Noi hanno fatto lo sblocca cantieri e abbiamo le grandi imprese edili che a parte qualcuna sono tutti in amministrazione straordinaria con il rischio che saltano. Noi stiamo dicendo perché non interviene la cassa depositi e prestiti perché non si unificano le imprese visto che hanno lavoro e si costruiscono anche degli strumenti finanziari che sostengono gli investimenti. Sono esempi di politica industriale che noi chiediamo e che invece non ci sono. La interrompo perché è arrivato il primo dei nostri messaggi Whatsapp lo sentiamo insieme una domanda naturalmente per lei segretario. Buonasera sono Aldo da Napoli un pensionato che ha sempre fatto parte del sindacato anche come dirigente regionale. Mio figlio che ha quasi 40 anni quando gli parlo di sindacato mi risponde che ormai non serve a niente è inutile basti vedere l'ILVA la Whirlpool e tante altre realtà produttive in chiusura. Per non parlare dei ragazzi più giovani che dei diritti dei lavoratori ne sanno ancora meno. Come pensate di recuperare la fiducia dei giovani e quale politica volete adottare per recuperare il potere contrattuale ormai ridotto ai minimi termini? Grazie. Io credo che il primo punto sia proprio combattere la precarietà. I diritti si sono ridotti quando si sono fatte leggi che hanno permesso di competere sui diritti delle persone. Quando a una persona gli puoi dire o accetti questa condizione di lavoro o ce n'è un altro che pur di lavorare è disponibile a un euro in meno di te con un diritto in meno di te addirittura fai le leggi per cui in Italia abbiamo 36 diversi rapporti di lavoro o abbiamo contratti pirata è chiaro che questa cosa determina una competizione e una preoccupazione tra le persone e metti in difficoltà il diritto stesso delle persone se vogliono di potersi collettivamente organizzare. Quindi il primo punto è secondo me combattere la precarietà fare in modo che i principi della nostra Costituzione vengano affermati. la CGL ad esempio ha depositato in Parlamento e sta chiedendo di fare una nuova legge dove noi non diciamo di tornare allo statuto del 1970 diciamo che il nuovo statuto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori deve dire che i diritti non sono legati al rapporto di lavoro che ho ma ogni persona che lavora lavorando deve avere gli stessi diritti e le stesse tutele e quindi si tratta da questo punto di impedire che uno selga una persona piuttosto che un'altra perché mi costa meno perché ha un diritto in meno perché è più licenziabile no, ci devono essere dei diritti comuni sotto i quali nessuno va e la competizione la devi giocare sulla qualità sugli investimenti sull'intelligenza delle persone questo è il punto di fondo e noi dobbiamo batterci per tornare ad essere con forza anche questo sindacato mi permetto di dire citava Whirlpool Ilva vorrei dimostrare che lì la presenza del sindacato è forte oggi i lavoratori della Whirlpool sono in mobilitazione tutti tutto il gruppo è a disposizione così anche se non ci fosse stato il sindacato non ci sarebbero neanche stati quegli accordi in cui ci sono voluti anni per poterli realizzare oggi noi stiamo chiedendo non a caso per salvare Ilva per salvare Whirlpool di applicare gli accordi sindacali che sono stati fatti non c'è mai stato tanto bisogno come adesso di sindacato poi il sindacato si deve aprire si deve rinnovare e deve far entrare anche i giovani chiarissimo segretario io la porto sulla foto del giorno che abbiamo selezionato per lei eccola tra l'altro la ritrae dal Papa qualche giorno fa che è stato in udienza gli sta tra l'altro consegnando la carta dei diritti universali del lavoro innanzitutto le chiedo ma cosa le ha detto il Papa? Guardi è stato un incontro per me sinceramente emozionante e indimenticabile perché mi ha colpito l'umanità e la semplicità della persona ma nello scambio che abbiamo avuto di decine di minuti mi ha colpito l'acutezza delle parole e mi ha colpito che il messaggio che ha mandato non ero da solo ero anche insieme ad altri del sindacato della FLAI alcune associazioni perché hanno fatto delle opere vere hanno donato dei tir di derrate alimentari da distribuire e la cosa che ci ha detto è che è il momento di avere coraggio è il momento di rischiare è il momento di stare dalla parte di quelli che stanno peggio e di stare sul territorio e siccome noi abbiamo proprio lanciato come nostra strategia anche sindacale quella che bisogna costruire il sindacato di strada cioè che il sindacato deve tornare ad essere lì dove le persone hanno bisogno mi ha fatto molto piacere sentire che lui ci ha detto che è un'idea che gli piace e la carta dei diritti l'abbiamo proprio consegnata perché difendere il lavoro e difendere i diritti di chi lavora vuol dire proprio difendere quelli che tante volte sono più sfruttati e lo sfruttamento è una parola che esiste ancora la porto anche sulla buona notizia di oggi segretario perché noi abbiamo arriva questa volta da Repubblica che ha pubblicato questa notizia che legge anche qui i giapponesi che assumono questa nuova azienda che ha fatto assumere mille persone italiane tra cui 500 del sud tra Napoli e Caserta mi sembra ecco questo davanti anche a quella manifestazione che c'è stata la settimana scorsa a Reggio Calabria insomma l'attenzione al sud è notevole credo che questa sia una buona notizia che dimostra tra l'altro che nel nostro paese ci sono tante intelligenze si può fare degli investimenti se un giapponese viene ad investire e sviluppa talenti come qui si dice nel settore in cui loro stanno lavorando è molto importante tra l'altro vorrei ricordare un punto il nostro elemento visto che c'è chi teorizza che bisogna chiudere i porti e che bisogna far morire le persone che cercano di venire da noi vorrei ricordare che il nostro problema è che negli ultimi 3 o 4 anni 208 mila giovani laureati se ne sono andati dal nostro paese per andare a lavorare da altre parti e negli altri paesi europei non hanno chiuso le frontiere li prendono perché sono persone intelligenti capaci creative capaci di far funzionare quindi questa è una buonissima notizia ma l'altra notizia è che noi avremmo bisogno non che i giapponesi investano in Italia ma che anche gli italiani investano in Italia che anche il governo desse il senso che ha il coraggio di investire qui da noi e di creare lavoro grazie davvero al segretario della CGL Maurizio Landini per essere stato con noi noi vi lasciamo come tutte le sere al Dulcisinfundo che questa sera ci porta nella Corea del Sud per una bellissima azione di tutela sociale portata avanti da tre ragazze e TGTG estate torna lunedì perché domani spazio da Antonio Soviero con il suo Guerra e Pace grazie davvero per essere stati con noi buonasera a tutti grazie a tutti